Your backstage, i diari di Amma Met, di Daniele Santa Nicola. Santo Nicola. Vado a leggere la motivazione, diviso in capitoli tratta un po' tutti gli aspetti della lavorazione dei film, ottima fattura e buona tecnica di realizzazione. Prego, era salito prima, è così, ecco, sei molto lontano, sei seduto lontano? No perché sei tanto sprint. Pre sprint, Simona, almeno sprint. Lo vedo che arriva da lontano ma è sprint. Non me l'aspettavo. Ah, non sopieni. No, non sopieni, quel bellissimo, no? Vedi, e non lo sappiamo, e vedi, eccoci qua. Il festival di Spello sorprende, no? Sorprende, sì, campina. Consegna ufficiale. Grazie. Qui il ringraziamento va soprattutto a Pierfrancesco Favino perché lui non avevano previsto la presenza del backstage sul film Amma Met, per cui lui aveva deciso genialmente di girare lui dei backstage con una sua telecamerina e poi è venuto un giorno da me e ha detto, senti Daniele, io ho tutta questa montagna di roba che ho girato, gli devi dare una forma. E quindi abbiamo deciso di fare i diari di Amma Met, cioè delle pillole di backstage dal set in cui Favino stesso conduce gli spettatori alla scoperta dei segreti del film e di quel suo viaggio. Per cui grazie a Pierfrancesco. Bene, grazie. Grazie Fabio per essere stato con...